ma perché quando forse quando stai a casa con lei, avrei venuto il figlio assieme a tua madre, erano tutto un unico stato di famiglia, quindi si è portato parte del bene di nessun padre, è un buon sguardo, è un buon sguardo, è un buon sguardo, è un buon sguardo per questo, è un buon sguardo... Che scherzi dappi, 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 dappi. Ho spito, ho spito, ho spito, ho spito, ho spito. E la ci sta lato, c'è un'ottifiziazione per avere la... 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 Che c'è? Non stare alle sensazioni. Non mi ha un dono, non mi ha un dono. E strato. Tutta la com'è mia. La com'è mia, la com'è mia, la com'è mia, la com'è mia. Non mi ha un dono, non mi ha un dono, ci sono più volte la pastire. E... E... Ho fatto il migliore. Ho fatto il migliore. Ho fatto il migliore. Ho fatto il migliore. A dietro, a dietro. No, no, io voglio la pastire, a pastire. No, io voglio la pastire. Ma io voglio la pastire. Ma io ho già mandato il promesso, non lo hai mantenuto con me. No, allora, qualche parte ci siamo stati imponenti. Eh, lo stiamo. Cioè, non penso che mi conveniva a portare a venire. No, ma... No, ma... Ma secondo voi, io non lo voglio. Oh, superiore. Ma per... Eh, amone. Eh, amone. Oh, padre. Ma pure tu. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Don Andorz. Oh, mamma mia. Che fai? E ancora... Il padre, il mio papà. Tu sei arrivato? Eh, sì, sì. E che sei arrivato? No, no. E me è morta un'uffreddita? No, non conosco. E che vieni qua? E che saisì? Eh, siamo siamo arrivati con mio figlio. Che sei arrivato con mio figlio? E gli sei arrivato con mio figlio. E a lui giura. Poi, ero molto vicino. Non è? Non è? Non è? Dei vissare... Non è? Ha visto? Da cinque anni è... È morto lì. È morto lì. Cosa? Come faci? Io non dico nulla, però ci ha già notato. Sono a notte. Sono a notte. Sono a notte. E' un ragazzo, però... E' bravo, però è condiviso. Però ci è messo. Ma non c'è più. Uomo, che entra a fare? Noi, ci ne voglio fare camminare. Allora, fai un mese. Ah, non, non, non c'è camminare. Oh, io... Che grande. E' un po' di più. E' un po' di più. Ma non devo dire un po' di più. Non ho capito. Non c'è più. E' un po' di più. E' un po' di più. Si sicuro. E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più. Senti un po', ma... L'antipiori cosa stai prendendo? L'augmentum. E sai che ti puoi cacciare il sabbicuccio? Si, no, l'augmentum se la prendi. No, no, vai a prendere l'augmentum. Oppure... No, ok. Prendi quello generico. Sì, quale? Ehm... Ehm... La moxicillina. Ehm... Che ne ti puoi? E' un po' di più. La moxicillina, il tuo nello è saccato? No, il 3% Qui si saccato, ma non aveva ricette. Ci va l'antipiotico. E' un po' di più. E' terminato. Tuo fratello? No, è buon andato. Ma sai che sta buono, Pavaro? Si sta prendendo l'altra cosa. Sei tranquillo, però. Ehm... Ma voi non andate via? Stai a casa? No, no, no. Ok, allora, senti, tanto che io non uscire pure. Già che apriva una botta, una cosa, la venezia. Ehm... Vedi? Ehm... Ehm... Ciao, grazie. Dai... Orevi e... Poi... Ehm... Kravite la pasta. Questo esame diamore. Ehm... Ehm... Gabbè lì? E' aggressivo. E' aggressivo. E' un amore che mossa lì. E' Diego. E' Diego. E' Diego. E' caro Diego. Mamma lo sai che è aggressivo. Diego. E' aggressivo.